Il convento di Sant'Antonio a Polla anche quest'anno è stato luogo sacro dove i carabinieri della compagnia di Sala Consilina si sono riuniti per le celebrazioni in onore della Virgo Fidelis. Celebrazione che la compagnia salese guidata dal capitano Davide Acquaviva ha anticipato di un giorno, restando però sempre fedele a quello che è un momento di incontro e di fede che gli uomini e le donne dell'arma considerano sacro. Accanto ai carabinieri diversi sindaci delle aree del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, territori di competenza della compagnia carabinieri salese oltre ad associazioni e privati cittadini che hanno voluto essere presenti anche per rendere onore ai militari che sono costantemente in campo per garantire la sicurezza delle comunità locali e per prevenire reati di ogni genere. Presenti inoltre anche i rappresentanti della polizia stradale di Sala Consilina e i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. Ad ufficiare la cerimonia il cappellano militare della legione carabinieri Campania Don Franco Frattini condò Gabriele Petrocelli quale concelebrante. Una mattinata di raccoglimento nel nome della Virgo Fidelis a cui al termine della celebrazione è stata anche recitata la preghiera del carabiniere. Ritrovarsi e celebrare una funzione eucaristica in favore in realtà oltre che degli appartenenti all'arma dei carabinieri in servizio alle famiglie anche è rivolta a celebrare un po' tutto il territorio dato che l'arma da oltre due secoli è vicina alle popolazioni, istituzione fedele alle istituzioni ed è un momento appunto per celebrare un po' con tutto il tessuto territoriale questo momento. Oggi ricorre anche l'anniversario, il 78esimo della battaglia di Kulqualber, una battaglia importante della Seconda Guerra Mondiale dove l'arma si è distinta difendendo un avamposto in Africa in maniera assolutamente memorabile. Ed è anche il momento per celebrare la giornata dell'orfano dove sia i figli dei militari caduti per ragioni di servizio sia per quelli che non ci sono più, comunque oggi è un momento anche per loro per rivivere i momenti di memoria insieme ai propri familiari, ma è un momento anche per noi per riabbracciarli e per ricordarli che fanno parte in maniera eterna della famiglia dell'arma. In ultimo le chiedo cosa vorrebbe dire in occasione della Virgo Fidelis ai suoi uomini, cosa vuole che resti impresso nella loro mente? Ma quello che io più o meno gli ripeto tutti i giorni, tutelare con qualsiasi mezzo l'integrità del territorio che ci è affidato, sentirlo come proprio e impegnarsi e credere nella tutela dell'ordine della sicurezza pubblica, nell'assistenza alla popolazione e fare il proprio dovere al meglio, impegnarsi al massimo tutti i giorni cercando appunto di onorare la divisa che si indossa e che in passato hanno indossato anche alcuni eroi che purtroppo oggi non ci sono più.